Fresh, Margaret, scusatemi, ma io devo andare a casa di Leo. Ma come? Speravo di poter parlare a tutte voi. Anche Jerry, dov'è? Jerry è in camera sua, sta parlando con Sebastian. Non si staccherà dal telefono prima di un'ora. Almeno un'ora. Scusatemi, io devo proprio andare. È un evento che Leo mi abbia chiamato a casa sua. Ora si ricorda di te di essere stato il tuo ragazzo? No, assolutamente non se lo ricorda. Però la casa libera e i suoi genitori non ci sono, perciò ha chiamato me. Non so se mi spiego. Ci sono buone speranze per noi. Incrociate le dita! Ah, uffa. Che c'è? Non sei contenta per Isi? Certo che sono contenta, ma dovevo dirvi una cosa importante. Beh, puoi dirla a me intanto. Ok, anche perché non riesco a stare zitta. Ho detto a mia sorella che avrei mantenuto il segreto, ma non posso. Questo va ben oltre i segreti, è una cosa importante. Tua sorella, Mary, ha un segreto? Sì, un segreto orrendo. Ehm, sicura che devi dircelo? Sì, perché riguarda la sorella di Jerry e di Isi. Angie? No, la sorella scomparsa. Aya! Tua sorella ha un segreto che riguarda Aya? Qualcuno qui parla di segreti? Oh no, Jenny. Non mi abituerò mai a vederti in questa casa. Sul serio, sei proprio fuori posto qui. Già, Jenny, anch'io fatico ad abituarmi alla tua presenza. Insomma, di tutti noi. Tutti? Tranne nonna Granny. Ormai la sto chiamando anch'io così. Bernice è eccezionale. Ha ragione mia madre. Ha fatto bene a fondere le due società. Bernice è un'ottima risorsa. Ma voi? Di che segreto state parlando? Ho sentito il nome di Aya. Ditemi tutto. Non ti diremo un bel niente e non siamo obbligate a dirti nulla, Jenny. Già, non siamo obbligate a dirti nulla e non ti diremo nulla. Allora, volete fare le dure con me? Sappiate che non mi arrenderò finché non scoprirò questo vostro segreto riguardante Aya. Sarà la mia missione giornaliera. Fantastico. Senti, sarebbe meglio andare a casa di Ops. Qui ci sono troppe persone che potrebbero sentirci. Già, e non voglio proprio che Bernice, beh, nonna Granny, scopra questa cosa. Potrebbe essere pericoloso. Andiamo a casa di Ops. Avvisiamo Cherry e ci raggiungerà lì non appena avrà finito di parlare con Sebastian e mandiamo un messaggio a Daisy. Ci raggiungerà lì. Ok, forse è la cosa migliore. Oltretutto qui c'è Mary e non voglio che senta. Mi impedirebbe di dirvi ciò che so. Già mi sento in colpa. Ok, muoio dalla voglia di sapere qual è questo segreto che riguarda Aya e tua sorella. Leo, perché mi hai fatta rimanere qui? Sarei potuto uscire con elettra, uffa, ed ora cosa facciamo? Stai lì imbambolato. Ecco, vorrei che incontrassi una persona. Io? Chi dovrei incontrare? Ehi là, Leo. Ciao, Leo e René. Ciao, René. Leo, cosa significa Easy? Perché vuoi farmi incontrare Easy? Perché dobbiamo parlare. René, io so quello che hai fatto. Hai usato i tuoi poteri su di me. Ah ah, diglielo, Leo. Diglielo che li ha usati. Lo sanno tutti. Cioè, no, però l'abbiamo capito. Leo, l'ho fatto per il tuo bene. Non stai meglio senza Easy? Easy ti rovinava la vita. Me l'ha detto Elettra e... Ho riflettuto. Elettra ha ragione. Cioè, io rovino la vita a Leo. Ma come ti permetti? Sono una ragazza adorabile. Il fatto che io non piaccia i suoi genitori non c'entra a niente è un malinteso. Io tengo a Leo come un fratello e non voglio che la sua vita sia rovinata a causa tua, dalla tua influenza. Cioè, ma questa non ci sta di testa e non sta bene. René, perché dovrai rovinargli la vita? Ma stai scherzando? Non sto scherzando, Easy. È meglio così. René, io mi fidavo di te. Come hai potuto usare i tuoi poteri su di me? Oltretutto, tutti si ricordano della mia storia d'amore con Easy, mentre io non ricordo nulla. Non pensi che questa cosa possa farmi andare fuori di testa e impazzire? Beh, ho sbagliato. Dovevo cancellare i ricordi a tutti, ma mi sembrava un incantesimo un po' troppo potente. Così mi sono limitata a cancellare i tuoi ricordi. Ma posso rimediare? Posso cancellare i ricordi a tutti? René, no! Ma allora non capisci quello che sto cercando di dire? Tu non avresti dovuto cancellare i miei ricordi. Non importa se pensi di aver fatto del bene. Non importa se pensi di avermi salvato dalla cattiva influenza di Easy. Questo non c'entra. Ma io ho merito di fare le mie scelte con la mia testa, senza essere obbligato da nessun incantesimo. Sì, però Leo, guarda che non sono una brutta influenza. Non appena ti ridarai ricordi, credimi. Lo capirai anche tu che sono una ragazza dolcissima da sposare. Ok, non subito, eh? Non ho detto che voglio sposarti. Cioè, sì, voglio sposarti. Ma non ora, Leo, siamo giovani. Però in futuro, certo che voglio sposarti, sì! Beh, non era una proposta di matrimonio, ok? Mi sono fatta un po' di sogni in testa. D'accordo, dove eravamo rimasti? Lo vedi? Parla a bambera e poi ti porta a prendere cattive scelte, cattive decisioni. L'ha detto Elettra. Non mi interessa cosa ha detto Elettra. Io, René, pretendo di riavere i miei ricordi. E li voglio ora! Beh, non è così semplice. Scusami, è stato semplice fare quell'incantesimo su di me, quindi? Dovrebbe essere semplice fare il controincantesimo, come lo chiamate voi streghe, non lo so. Sì, il controincantesimo. René, avanti. Fai sbrillucicare le tue dita e emetti l'incantesimo. Ma non è così facile perché ho cancellato i suoi ricordi e potrei non riuscire a ridare tutti i ricordi che ho cancellato. C'è solo un modo per farlo. Ok, facciamolo. Se c'è un modo, c'è una soluzione. Bisogna capire il momento esatto, il ricordo esatto in cui Leo ha iniziato ad amarti. Senza quel ricordo, beh, non tornerà più ad amarti, certo. Certo, può ricordarsi di te, ma quella scintilla sarebbe persa per sempre. Ci vuole quel ricordo esatto. E io non posso di certo sapere qual è quel ricordo, quale ricordo cancellato. E rimettiglieli tutti noi ricordi. Cosa fai? Una selezione dei ricordi? Mettiglieli tutti in testa, no? Non posso, non funziona così. Non posso fare una magia che ridà i ricordi, perché ormai li ho cancellati. Bisogna che ci sia una scintilla, quel qualcosa che lo farà ricordare di te. Dipende da voi. Mi dispiace. No, 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 tu ci stai ingannando solo perché non vuoi ridargli i suoi ricordi. René, daglieli ora, immediatamente, dovrai scontrarti con me! Te l'ho detto, non posso fare nulla. Sta a te a fargli ricordare perché si è innamorato di te. Ma forse questo neanche tu lo sai. Cosa? Easy, mi dispiace tanto. Io sento che sei una ragazza speciale, ma purtroppo non provo nulla. Leo, smettila di dirlo perché questa cosa mi ferisce, ok? Che penso la memoria. Un po' di empatia. Io sto soffrendo, perciò non dire mai più che non provi nulla per me. Hai capito? D'accordo, ma è vero. Senti, Leo, tu recupererai quel ricordo magico che ti ha fatto innamorare di me. Probabilmente è stato il bacio. Proviamo. Ha funzionato? No. No? Però è stato bello, mi è piaciuto. Se vuoi riproviamo. Concentrati. Allora? No, probabilmente non è stato un bacio a farmi innamorare di te. E allora cosa? Cosa può essere stato? Gianni, dove sono tutti? Charlie non è in camera sua. Flash e Margaret dove sono? Margaret voleva parlarmi. Sì, voleva parlarti del suo segreto riguardante Aya. Cosa? Aya? Un segreto riguardante Aya? L'ha trovata? Non lo so, non me l'ha voluto dire. Comunque sono a casa di Hobbes. D'accordo, sarà meglio raggiungerle. Allora com'è andata con il tuo non ragazzo Leo? Senti, Gianni, inutile che fai tanto la spiritosa. È andata male. Male e male. René non può aiutarmi. È stata lei a causare tutto questo e... Ed ora non può rimettere le cose a posto. Senti, so tutto. René ha i poteri, ok? Ti ha detto che non può aiutarti. Probabilmente non vuole. Non lo so, sembrava un po' sincera. Però ho dubitato anch'io, eh? Ma magari ha detto la verità. Ah, senti, Gianni, non c'è modo per Leo di fargli recuperare la memoria con i poteri di René. Perciò dovrò faticare per fargli ricordare il ricordo esatto che l'ha fatto innamorare di me. Lo sai che è una missione impossibile, Isi. Difficile, ma non impossibile. Piuttosto io potrei fargli ritornare i ricordi in un secondo. Cosa? Davvero? Mmm, tu sei Gianni. E c'è un tranello, di sicuro. Nessun tranello. Portami René. René non si fida di me. E neanche, ovviamente, di tua nonna. È l'unico modo. Convinci René a sottoporsi ai nostri esperimenti. E perché dovrebbe farlo? Mica impazzita. E voi scusatemi, da quando è che agite nella legalità? Da quando è che vi importa il consenso delle persone? Con la fusione delle due società vogliamo fare le cose per bene. Abbiamo cambiato un po' di metodi. Perciò mi serve il consenso scritto di René. E sai, chi può convincerla a farlo? Leo. L'unica persona di cui si fida René è Leo. Leo deve dire a René che è per il suo bene. Noi possiamo aiutare anche lei. In fondo lei non vuole i poteri. Perciò possiamo aiutarla. Noi siamo la soluzione a tutti i vostri problemi. Parla con Leo e convincilo. Devo convincere Leo a fare una cosa del genere. Beh, rivuovi i suoi ricordi? Volete rivivere la vostra storia d'amore? Bene, questo è l'unico modo. Affida René alla nostra grande società. Potremmo studiarla, studiare i suoi poteri. Leo riavrà i suoi ricordi e tutti saranno felici e contenti. E René perderà i suoi poteri proprio come vuole. Non lo so se è una buona idea, Jenny. Tu non porti mai nulla di buono. C'è sempre un inganno nelle tue parole. Questa volta sai che non hai altra scelta, Easy. Purtroppo è vero. Ci devo pensare. Ma dov'è finita, Easy? Insomma, ancora con Leo? Beh, senti chi parla, Cherry. Tu sei stata tre ore al telefono con Sebastian. Magari hanno finalmente risolto e Leo ora si ricorda del loro amore. Lo spero per lei. Senti, Margaret, dici questo segreto. Ormai io non posso più aspettare. Che cosa sa tua sorella sua, Aya? Ok, lo dirò a voi e poi avviseremo anche Easy. Perché io non so proprio cosa fare. Ecco, mia sorella Mary parla telefonicamente con Aya. Sa dov'è, sa tutto. Cosa? Ma la stanno cercando tutti, anche la polizia. Come fa lei a saperlo? Vi ricordate quando io e mia sorella siamo scappate dalla società di vostra nonna? Beh, siamo scappate con Aya. E ci siamo scambiate il numero di telefono. Evidentemente Aya ha sentito di potersi fidare di Mary. Ma Aya non può stare con quella pazza psicopatica di sua madre. È con sua madre, giusto? Sì, è con sua madre. Un ragazzo. Ha detto che sua madre si frequenta con qualcuno. Insomma, non lo so, non ho capito bene. Ma non è sola, è con sua madre. Sentite, per quanto mi stia antipatica mia sorella, non la posso sopportare. Però nessuno merita una cosa del genere. Dovrebbe stare con noi. Con mio padre, beh, anche suo padre. Già, non può di certo continuare a fuggire, a nascondersi. Sua madre è ricercata. Sì, beh, questo lo è anche la nonna. Anche nostra nonna è ricercata. Però ci saremo noi qui con lei. In un ambiente più sano, di sicuro. Non può continuare a stare con sua madre? Ha il nuovo ragazzo di sua madre. Che situazione è questa? Non so neanche se sta andando a scuola. Sta andando a scuola? Non lo so. Ma se si stanno nascondendo è difficile che possa frequentare una scuola. Non so dirvi altro, ragazze. Mary non mi ha detto di più. Che cosa facciamo? Vogliamo dire tutto a Liam e a Rory. Mia madre chiamerebbe subito la polizia, di sicuro. Forse è la scelta migliore. Insomma, non sappiamo come stia vivendo Aya. Anche se c'è da dire che Aya voleva rimanere con sua madre. Dobbiamo riuscire a parlare con Aya prima di prendere una decisione. Riusciresti ad organizzare una chiamata tra noi? E dai, Margaret, devi convincere tua sorella a farci parlare con Aya. D'accordo, cercherò di farlo. Ma questo vuol dire che devo dirle di aver rivelato il suo segreto. Mi odierà per sempre. Mi spiace, Margaret, ma è la cosa giusta da fare. Lo sai anche tu. Dobbiamo assicurarci che Aya stia bene. E che sia realmente la sua volontà quella di rimanere con quella pazza di sua madre. Sì, dobbiamo parlarle e poi decideremo che cosa fare. D'accordo, mi sembra un'ottima soluzione. Isi, vieni. René non c'è, siamo soli. Meglio, perché è proprio di lei che ti devo parlare. Di René? Ecco, potrai avere la soluzione dei nostri problemi. Insomma, potrai sapere come farti, riavere i ricordi. Hai trovato un modo? Ma René ha detto che è praticamente impossibile. Abbiamo provato a baciarci e nulla. Potrebbe aiutarci la società di mia nonna. La società di tua nonna? Ma hai detto che è malvagia. Sì, l'ho detto, perché fanno esperimenti sulle persone per sviluppare dei poteri paranormali. Però, a quanto pare, Jenny mi ha assicurato che ora, con la fusione delle due società, ossia quella di nonna Granny e quella della madre di Jenny, vogliono cambiare le cose e fare le cose per bene legalmente. Quindi ti fidi? Perché so che René mi ha fatto del male e ne ha fatto anche a te, ma non voglio metterla in pericolo. Io tengo a René, nonostante tutto, nonostante il suo comportamento. Io le voglio bene. Lo so, Leo, ma mi ha assicurato che ne gioveranno tutti, insomma. Possono anche cancellare i poteri a René, visto che è ciò che voleva lei. Beh, René odia la sua magia, insomma. Pensavo la odiasse, non so se ha cambiato idea. Beh, Leo, devi convincerla. Devi convincere René a lasciare la sua magia. La sua magia è pericolosa. Non può essere così potente, Leo. E la società di nonna Granny può aiutarla. Finalmente ogni problema sarebbe risolto. Dovrei dire a René che deve rinunciare alla sua magia. Sì, in fondo lo voleva, no? Odiava la sua magia. Devi solo ricordarle perché la odiava tanto. E nonna Granny e Jenny ci aiuteranno con i tuoi ricordi. Ma René deve entrare volontariamente in quella clinica. Le faranno firmare delle carte, non lo so. Proprio adesso vogliono fare le cose legalmente. D'accordo. Proverò a convincere René. In fondo non mi piace che abbia tutto questo potere su di me. Probabilmente non sa gestirla e non sa usare la sua magia. Così è troppo pericoloso. Oh, Leo, finalmente torneremo a baciarci con amore e sentimento. Allora? Eh, niente, non tornano i ricordi. Ca, il bacio non funziona. Devi parlare con René. Nell'unico modo. Ma forse non è poi una cosa così male. Era ciò che voleva René. Lo ricordo quando eravamo in quella clinica. La clinica Elizabeth. René odiava la sua magia e... Probabilmente è giusto così. Non è passato in. thata di quanto non è passato in... Questa è una cosa così male.